Oggi usiamo un lettore PN532 per i tag RFD e le carte di tipo MyFair. Sono quelle che usano di solito per la bigliettazione, per esempio Trenord, ATM usano queste carte. Ovviamente non riuscirete a leggerle loro perché i contenuti sono protetti da una chiave che è gelosamente custodita da chi vende i biglietti, ovviamente. Però, avendo delle carte vuote, potete andare a scriverle e fare un po' di esperimenti. Iniziamo subito. Oggi utilizziamo una scheda PN532 per andare a leggere e scrivere le carte RFD. Sono carte MyFair, vengono chiamate così. È uno standard introdotto e inventato da NXP, quindi da Philips tempo fa. Allora, vediamo l'hardware. Quella schedina che avete visto si può acquistare per pochi spiccioli sui classici rivenditori eBay, Amazon e così via. La possiamo collegare al nostro Arduino con cui possiamo andare a intanto leggere il contenuto dei tag NFC o delle carte MyFair. Si scrive così, MyFair. Fair è tariffa, vengono usate di solito per i biglietti del Pullman, per esempio. Quindi l'ATM usa questo standard, per esempio, l'ATM di Milano. Questa schedina la colleghiamo appunto al nostro Arduino e andremo a leggere la lettura, quindi il seriale della carta, perché ogni carta ha un suo seriale. Quindi sono quelle carte che sono tipo carte di credito. Hanno all'interno un circuito, quindi un loop con un piccolo chip. Questo viene energizzato dalla schedina che useremo per leggerle e anche per scriverle e quindi risponde dandogli dietro i dati. Hanno una capacità tra 1K e 4K a seconda dei modelli, quindi potete anche memorizzare delle informazioni. Allora, la nostra schedina che avete visto ha due possibilità. La possiamo usare via i2C o via SPI. Noi la useremo via i2C che è più comodo. Quindi la collegheremo con il nostro Arduino, con i classici due fili SDA e SCL. Quindi da una parte e da quell'altra. SDA e SCL, cercateli sull'Arduino. Eventualmente, se non sbaglio, SDA è A4, SCL è A5. A questo collegheremo anche un display. Useremo un display di tipo OLED, un SSD 1306 collegato sempre via i2C, quindi su SDA e SCL. Alimentato in modo indipendente, quindi 5V. Anche la nostra schedina avrà due pin per l'alimentazione. Sono messi su un lato, quindi sul lato dei pin dell'i2C. Quindi avremo i 5V, il grano che portiamo ad Arduino. Poi qui abbiamo una fila di pin per le SPI. Questi pin a noi non ci interessano, tranne i due, che sono il RESET, che troviamo qua, e un altro che è IRQ. L'IRQ dà un segnale all'Arduino ogni volta che viene fatta una lettura, quindi lo risveglia. Quindi abbiamo l'IRQ e il RESET, che andiamo a collegare perché ci serviranno poi per il funzionamento normale. Andiamo a portare il RESET sul pin 3 e IRQ sul pin 2. Ultima cosa, qui in un angolo troverete un piccolissimo switch con due interruttorini. Ve lo faccio un pochino più in grande. Questo va configurato per impostare la modalità i2C o SPI. Quindi se volete lavorare in SPI dovete andare a spostare con una piccola punta, uno stuzzicadente, i due switch. In questo modo comunque sono riportati di solito sulla schiera, quindi sono stampigliati qua. Vedete le modalità. Quindi questa qua è la i2C. Se vi mettete al contrario è in SPI. Quindi questo è il nostro hardware. Andremo a leggere semplicemente gli ID della carta. Poi nei prossimi video faremo qualche esperimento in più. Come per esempio andare a scrivere noi delle informazioni, dei testi o magari dei crediti. Apriamo il nostro Arduino e andiamo a installare le librerie che sono la cosa più importante. Andiamo sotto Sketch, Include Library, Manage Library e andiamo a cercare le librerie di Adafruit. Cerchiamo il nome della scheda che sarebbe poi il chip, PN532. Ecco qua abbiamo Adafruit PN532. Da me sono già installate, nel caso le installate. Una volta che le avete installate potete andare ad aggiungere quanto necessario per poterla utilizzare. Ovviamente ci servirà la libreria Wire perché usiamo l'i2C e poi le Adafruit PN532 che mettiamo qui all'inizio. Poi abbiamo il classico setup e loop. L'oggetto principale prende il nome della libreria, lo metto qui. Dobbiamo definirlo passandogli due parametri che sono i pin di IRQ e reset. Abbiamo detto IRQ sul 2, il reset sul 3. Lo rimettiamo qui. Qui abbiamo il IRQ e virgola RST. L'oggetto lo chiameremo NFC per semplicità. Passiamo nella parte di setup. Qui possiamo anche preparare la seriale ma non è necessario. Metto un metodo, crea un metodo OLED setup, in cui metteremo tutte le istruzioni di inizializzazione del nostro display che non ho ancora configurato, quindi ne occuperemo dopo. Per preparare la scheda basta fare NFC begin con queste librerie. Questo inizializza la scheda. Possiamo farci dare, se lo desideriamo, il nome di versione del firmware. Questo ci permette di capire se la scheda è collegata bene e funziona. Quindi con NFC.getFirmwareVersion otteniamo un numero. Negli esempi vedrete che usa dei tipi di intero tipo uint32 underscore t. Questo tipo di intero è un intero senza segno di 32 bit. Quindi è un unsigned long, se volete. Viene usato anche questa modalità. Facciamo ver, la versione del nostro firmware. Se questo è presente, se abbiamo un numero valorizzato, tutto ok. Altrimenti se questo non è valorizzato, quindi resta uguale a zero, possiamo stampare un messaggio qua di errore e eventualmente bloccare il tutto. Quindi facciamo while 1 e restiamo bloccati qui. Non proseguiamo. Per iniziare a leggere le nostre schede bisogna lanciare il metodo nfc.sumconfig che ci prepara alla lettura. nfc.sumconfig Ora ci mettiamo nel loop dove andremo a leggere la carta. Abbiamo bisogno di un po' di variabili per memorizzare i dati che andremo a leggere. Ci siamo una variabile di tipo byte o uint8t che chiamiamo success. Questa ci dice se abbiamo fatto una lettura corretta della nostra scheda. Andiamo a creare un array, quindi faccio byte, uid, aperta e chiusa quadra. Creiamo un array con un certo numero di zeri. Mettiamoci sette zeri. Dentro qua metteremo l'id che ci viene ritornato dalla card che andremo a leggere. Ogni card ha il suo id. E poi possiamo anche prepararci un altro byte con la uid length. Ci dice quanti byte andiamo a leggere. Uid length, ok. Ora andiamo a leggere. Dentro il loop per fare una lettura andremo a chiamare il metodo nfc. Facciamo read passive target id. Bisogna dargli il parametro per dire che tipo di lettura, quindi il tipo di scheda che vogliamo leggere. Noi andiamo a leggere una MyFair. C'è uno standard che è l'ISO 14443A. Poi gli passiamo il nostro uid, quindi il buffer che verrà valorizzato. E la variabile uid length in modo che venga scritto dentro anche quanti byte sono stati scritti. Qui ho sbagliato a scrivere il metodo getFirmwareVersion. Non c'è stata una compilazione per vedere se va tutto bene perché come vedete i nomi sono abbastanza complicati. Allora qua usiamo la lettura passiva. Cosa vuol dire? La lettura passiva significa che la nostra scheda manderà delle onde alla carta e questa risponderà in modo passivo. C'è anche quella attiva che è fatta tra due dispositivi. Per esempio il cellulare e questo dispositivo possono parlarsi, faranno a turno e possono scambiarsi delle informazioni. Quindi in modo attivo. Passivo perché nella carta non c'è nessuna fonte di alimentazione. Viene alimentata dalla stessa scheda. Ok, quindi abbiamo fatto la chiamata. E se questa ritornerà un valore che abbiamo dentro success, valutiamo questa variabile. Se questa è vera, quindi la lettura viene fatta correttamente, quindi se success and, quindi doppia e commerciale, la lettura va bene per noi. Quindi stiamo tirando fuori l'uid se abbiamo letto quattro valori. Quindi controllo se uid land uguale uguale a quattro. Se mi fa questa lettura di quattro valori, allora posso entrare qui dentro e andare a stampare o tirar fuori dal nostro buffer i valori con un ciclo for. Quindi farò for int i uguale a zero, i minore di, mettiamo quattro, ma ovviamente sarebbe uid land, se volete crearlo in modo generico. I più più, mettiamo le graffe, qui tireremo fuori i valori. I valori li trovo dentro, uid, il nostro array, con indice i. Dobbiamo comporli in una stringa da poi visualizzare sul nostro display. Questo ci permette di leggere l'id. Ora prepariamo il display in modo che poi possiamo anche andare a visualizzarli e li vediamo direttamente. Per il display vado a copiare tutta la parte di inizializzazione da uno dei numerosi sketch che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Quindi la metto qua sopra, metto un commento, le ho incollate qua. Ma vado a importare ancora wire.h, quindi questo qui lo possiamo togliere. Per l'SSD 3606 usando il libreria di Adafruit mi serve anche la GFX, le importo tutte e due. Qui definisco le dimensioni del mio schermetto che è un 128x32, posso indicare se c'è un pin di reset, il mio non ce l'ha, quindi metto meno uno. Infine abbiamo il nostro Adafruit SSD 1306, lo chiamo display, gli passo i parametri, dimensioni dello schermo, i2C e il pin di reset. E il display è quasi pronto. Ho creato il metodo void OLED setup qui sotto in cui andremo a inserire tutti i comandi per prepararlo. Si può andare a fare un controllo per vedere se il display è collegato facendo display begin. Allora la chiamata display begin richiede, diciamo così, display.begin, devo dare l'indirizzo del display e il tipo di display. Queste informazioni spesso mi chiedete ma dove vai a prenderle così come quelle dell'NFC dagli esempi che trovate sempre installate insieme alle librerie. Quindi andate a sbirciarle e trovate quello che vi serve per partire. Allora se questa cosa qua non è true, quindi mi ritorno a force, vuol dire che il display non funziona. E andremo a scrivere un messaggio, quindi conviene andare a configurare la seriale e poi qua gli metterete quello che volete. Intanto metto un while 1 che blocca il tutto. Se l'inizializzazione va bene possiamo iniziare a lavorare, quindi facciamo display.clear display, aperta e chiusa, vado a ripulirlo. Imposto le dimensioni del font con set size, mettiamone uno piccolo, set size uguale a 1. Possiamo andare a impostare anche il text color se volete, di default dovrebbe essere comunque già bianco anche perché è monocromatico. Quindi text color, abbiamo una costante SSD 3106 white, poi il charset lcp437, lo impostiamo true. Infine facciamo display.display per applicare la pulizia del display e prepararlo all'uso. Quindi display.display, aperta e chiusa. Il nostro display quindi si può utilizzare. Ora torniamo nel loop. Qui abbiamo estratto i vari byte che voglio andare a visualizzare e che compongono l'id univoco della nostra carta. Per visualizzare sul nostro display dobbiamo andare a creare un char buff, un array di caratteri, lo chiamo buff, lo faccio lungo 4. Perché abbiamo dei numeri dei byte che trasformeremo in interi. Lo faccio utilizzando sprintf, quindi sprintf. La sprintf prende il buffer, quindi il nostro buff, virgola. Il numero che stiamo estraendo, questo lo vado a trasformare usando un pattern. Lo metto qui, metto un percento 0,3, u. Quindi il byte che stiamo estraendo lo trasforma in un numero formato da 3 digit, quindi 0,0,0 senza segno. Possiamo stamparlo. Quindi faccio display.write del nostro buff. Poi stampiamo uno spazio vuoto, quindi copio display.write, qui metto un spazio vuoto. Alla seconda iterazione del ciclo, tirarlo fuori il secondo numero, lo trasformo in una stringa e lo vado a incollare, a appiccicare di seguito al resto. Quindi dovremmo vedere i quattro numeri separati da spazi. Fatto questo, ricordiamoci di richiamare display.display per visualizzare le informazioni sullo schermo. Possiamo mettere una pausa, facciamo delay di due secondi per darci il tempo di vedere la lettura. Poi ripuliamo lo schermo in modo che possiamo avvicinare un'altra carta. Quindi chiameremo display.clear.screen.display e poi ancora display.display. Compiliamo il tutto, lo carichiamo e proviamo a presentare un po' di carte. Io ne ho solo due, dovremmo vedere i due D differenti. Ecco qua la prima, adesso l'avvicino al moduletto, vedete viene letto, questo qua è su ID univoco. Questa è la seconda, come vedete è differente. Andando a segnarsi questi codici possiamo andare a individuarle e magari attivare delle cose. differenti. Oggi abbiamo visto come utilizzare questa schedina che è molto economica con le librerie di Adafruit. Vedremo nei prossimi video qualche variazione sul tema, soprattutto la cosa più interessante è come andare a scrivere i dati. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!